Buonasera a tutti, proviamo in questo gioco City&T sperando che non sia una versione della miglia triccia vediamo, proviamo, play iniziamo e passiamo avanti come la chiave e 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 ma se ce l'ho preso adesso è sbagliato non so quando sono entrato ma non so se ce l'ho fatto penso che dovrei salire le scale non ci rendiamo poco 6 7 7 8 9 10 8 9 10 10 11 11 12 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 ... 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